Per azione sono impegnati 600 vigili urbani, alcune case avevano inglobato interi tratti dello storico Acquedotto Felice. Per l'abbattimento impiegati 20 mezzi sul posto... Chi vuole questo governo tecnico? Ci sono tante forze che lo vogliono, le forze finanziarie, le banche, eccetera. Con tre anni di manutenzione e furto incendio, TAN 549, TAE GOTE 38. Info in concessionaria, a novembre sempre aperti. Tutto esaurito, tutto esaurito, tutto esaurito, ti dà la carica e l'energia. Ciao 105. Dai capitano, ancora 10 minuti di casseggio, la portiamo a casa anche oggi. Eccoci qua, Radio 105, tutto esaurito, il mio, il tuo, il nostro, vostro programma preferito. Stiamo attendendo l'arrivo della nostra beccia. Eccola! Buongiorno, buongiorno, scusate, mi sono addormentata. Ciao, tutto esaurito. Ti devi vergognare, ti devi. Io dico, non è vero. La Betty, una favola. La Betty, per Natale regaleremo una sveglia nuova. Una sveglia nuova, un gong. Ma scusami Marco, anche tu sei addormentato. Guarda che Marco era... Uè, 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 pistolina. Ragazzi, ma ci avete fatto cazzo a una cosa? Chiaro, che non ostacoli la crescita. Sapete con certezza come, quando, perché e i vantaggi l'impiego. Più dei 92 mila a partire dall'agosto del 2016. Però la ricordazione... I soldi sono abbondanti le risorse estanziate, secondo il Corriere. Grazie. Grazie.